Io credo addirittura che questo sia un primo passo perché potrebbero poi essere anche più duri luoghi di aggregazione in una città così grande, con una così grande periferia che ha disagio senza dubbio e che quindi ha proprio bisogno di questi punti di aggregazione. Proprio a Milano è nata e si è sviluppata Sodalitas che è un insieme di imprese che credono al tema della responsabilità sociale e di volontari che sono ex manager che mettono a disposizione la loro esperienza per far crescere il non profit. Allora anche Sodalitas li potrebbe dire molto, potrebbe essere molto utile. Grazie a tutti.